Si chiama Fossombrone Magic Summer ed è stata pensata per regalare a turisti e vacanzieri ma anche ai locali in cerca di un po' di svago e refrigerio dalla costa un'estate di eventi, spettacoli, musica, concerti, animazione per bambini e saldi per i più grandi con l'apertura straordinaria dei negozi fino alle 24. Da giovedì 5 luglio a giovedì 2 agosto più di 100 negozi a disposizione dei visitatori nell'unico centro commerciale naturale a cielo aperto. E sabato 7 luglio per gli amanti dello shopping serale ci sarà la grande notte dei saldi. Anche quest'anno siamo pronti per partire con il Summer estivo a Fossombrone Sarà un Summer molto ricco che partirà dal giovedì 5 luglio, dal prossimo giovedì e proseguirà per tutti i giovedì fino a giovedì 2 agosto. Abbiamo una ricca stagione estiva con varie iniziative organizzate dall'ARFAN. Quello che ci auguriamo anche quest'anno è di avere una ricca partecipazione tante persone che colgono l'occasione non solo per fare shopping ma anche per star bene per una serata estiva in pratica all'aperto sicuramente piacevole per tutti. Quindi ricordiamoci, lo ripeto, da giovedì 5 luglio per tutti i giovedì del mese compreso giovedì 2 agosto e sabato 7 luglio con la magica notte dei saldi. Ricordo, ripuntualizzo l'evento clou probabilmente di tutta l'estate che sarà sabato 7 luglio dove ci sarà per l'occasione anche la diretta di Radio Studio Più ci sarà il gruppo Carta Carbone Live che si esibiranno lungo il corso nel palco centrale e quindi tantissimi eventi per i grandi e per i piccini. Un ringraziamento particolare quest'anno oltre che come sempre al Comune Proloco che ci sostengono sempre e a tutti i commercianti di Fossombrone va anche ad Arfan Animation che è il nostro nuovo partner da quest'anno per tutte le iniziative estive. Abbiamo cercato di portare delle novità, una tra queste è la grigliata in white edition per cui invitiamo tutti voi che parteciperete a presentarvi vestiti di bianco con accessori in bianco e anche tutta la scenografia sarà rigorosamente in bianco. Vi invitiamo anche a quella che sarà la serata del 26 di luglio, serata rock'n'roll nella quale ci sarà anche un contest, un contest di batteristi che alla fine verranno premiati con un premio che però sarà sorpresa. Per tutte le adesioni e quindi le iscrizioni vi invito a visitare le nostre pagine social quindi Facebook ed Instagram per vedere nel dettaglio tutte le novità che Arfan Animation ha portato al Summer Shopping di quest'anno.